E' stata una domenica infernale per i vigili del fuoco della provincia di Pesero Urbino chiamati a domare per 15 ore due fronti di incendio maturati in zone boschive del nostro entroterra. Già perché in una estate italiana che sta diventando tristemente segnata dalle immagini delle terre arsi in Sardegna, Sicilia e in importanti fette del meridione, ora anche le marche non vengono risparmiate dalle fiamme. Il primo e più importante rogo è divampato nella mezzanotte fra sabato e domenica nel territorio di Monte Fagiolo fra i comuni di Monte Cerignone e Macerata Feltria. Circa 15 ettari di bosco sono stati distrutti dalle fiamme chiamando ad un lavoro in mane i vigili del fuoco di Macerata Feltria, Urbino e Pesero che hanno chiesto anche il supporto di Canadair alzatesi in volo all'alba d'Ancona. Canadair che è poi dovuto intervenire anche su un secondo rogo divampato poco dopo le nove di mattina sulle Cesane nel territorio di Isola del Piano. Operazioni di spegnimento in questo caso rese più agevole dalla luce del giorno ma che hanno comunque visto altri quattro ettari di macchia andare in cenere. Sono in corso gli aggiornamenti per capire quali siano stati gli eventi scatenanti questi due roghi che però non hanno danneggiato abitazioni.